Si è concluso ieri il percorso di alternanza scuola-lavoro tra l'Istituto Colombo di Torre del Greco e l'azienda RDR. L'obiettivo è quello di offrire una formazione aziendale per un futuro inserimento nel mondo del lavoro, in particolare per quanto riguarda le competenze elettromeccaniche. Oggi andiamo verso un mondo sempre più tecnologico che richiede sempre più competenze e l'attività di RDR che è nel settore elettromeccanico richiede assolutamente come base di partenza delle competenze tecniche che solo la formazione può dare. Perché è stato scelto l'Istituto Colombo? L'Istituto Colombo è stato scelto perché è l'unico istituto che dà questo tipo di formazione importante a Torre del Greco, RDR, editore del Greco, quindi mi sembra un bellissimo e migliore esempio di collaborazione scuola-lavoro che si possa mettere in atto in maniera pratica, non solo per dare una formazione aziendalistica a quella abbinata, a quella didattica, ma soprattutto per dare un'opportunità di lavoro che è poi il fine di una scuola. Qual è la figura scelta per lavorare in RDR? I tecnici, noi diciamo i nostri operai sono tutti diplomati, sono tutti tecnici proprio perché facciamo diciamo lavori, io dico in guanti bianchi, nel senso che ci servono delle competenze elettromeccaniche di tecnico più che di operaio e queste sono le competenze che questo istituto sforna. Consegnati, attestati di partecipazione agli studenti nella sede di Viale dell'Industria. E' importante la formazione, ma più permettere a conoscenza, diciamo così, ai ragazzi le opportunità che ci sono, perché tante volte i ragazzi non conoscono le scelte da fare in realtà, avere la possibilità di conoscere tante realtà, ma qualsiasi, diciamo così, mestiere, perché tante volte i ragazzi non sono neanche a conoscenza per fare una scelta, finita le scuole medie, in realtà la scuola superiore, tante volte le ragazze scelgono così, tra amici, ma qualcuno ha la passione per quella che ha scelto, ma qualcuno poi alla fine si ferma perché, ha capito, non è la scelta che, non è la scelta consapevole. Allora è bene che loro hanno un vendaglio di conoscenza, diciamo così, di conoscenza che loro poi si accendono con la lampadina per dire, questo è quello che mi piace, questo diciamo così è il nostro obiettivo. Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Lucia Scimmino. È stata l'azienda che rappresenta un'eccellenza di questo territorio a scegliere la nostra scuola. Sono felicissima perché questo è un percorso per le competenze trasversali e di orientamento da molti conosciuto come il percorso di alternanza scuola-lavoro. Questo percorso è un percorso che mette insieme l'istruzione formale e l'esperienza lavorativa tra l'istituzione scolastica e l'RDR. L'originalità di questo percorso è stato proprio che è stato fin dall'inizio ideato, attuato e valutato sia dall'istituto Colombo che dall'azienda RDR. Questo è stato un percorso veramente speciale perché non siamo stati noi a scegliere l'azienda ma è stata l'azienda a scegliere l'istituto Colombo proprio per i percorsi formativi. In particolare ha richiesto i ragazzi dell'istituto professionale manutenzione e assistenza tecnica che hanno fatto un percorso di orientamento per le competenze trasversali e di orientamento durante tutto l'anno scolastico in modo da creare una fidelizzazione dei ragazzi verso l'azienda che rappresenta un'eccellenza del territorio. Però a noi fa molto piacere dire anche, e questo ci ha inorgoglito, abbiamo saputo che molti ragazzi dell'istituto nautico del percorso macchine sono già stati assunti a tempo indeterminato in questa azienda che non è solo un'azienda con importanza locale e valenza locale ma è un'azienda che ha filiali in tutta Italia e questo ci permette anche, permette ai nostri ragazzi di fare una, diciamo, di fare un'esperienza anche negli altri territori e che quindi arricchiscono, quindi arricchisce la loro possibilità di essere assunti e quindi di essere inseriti nel mondo del lavoro. Questa esperienza permette loro di fare delle scelte di vita fondamentali ma soprattutto delle scelte di vita consapevoli e responsabili.